La regaliamo a te, la regaliamo a te, la regaliamo a te, ok, cerchio, cerchio, la regaliamo a te, ok, cerchio, cerchio, larghi, ok la prima, ok la seconda, ok l'ultima, domenica, 18, 15, 18, quattro sedate, insieme. Si fa muovere i piedi, inghilterra africana, america latina. Morbidi, morbidi nel collo. Ho il capitano, il mio capitano, 5 nello spazio. Buonasera, buonasera, allora come potremmo cominciare? Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui. Aspetta Giulia, prima, lo so Ale, è un progetto, Progettiamoci, allora facciamo, facciamo un riepilogo. Dico, c'è stato un miglioramento delle relazioni interpersonali nel gruppo, no? Ah no! Secondo gli obiettivi il progetto ha favorito l'integrazione. Cioè, siamo tutti più integrati, no? Sì! Si è promossa l'inclusione sociale, l'empatia, la crescita della fiducia in se stessi. Abbiamo tutti più fiducia! Sensibilizzando tutti, dico, sulla necessità di combattere stereotipi, discriminazioni. Sì, no, 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 no. Non l'ho capito, ma la c'è di me, no? Team working, punto di vista degli altri, inclusione, quartieri, zone malfamate, associazioni del territorio, scuole, cipia, farrocchie, è da dicembre. Che ferriamo a destra e manca, io non posso dire manco una cosa. È l'invito! È un desiderio, una cosa che non ho mai detto. Oh, no! E al suono di quello scusa, alle loro spalle, siano nuovamente riapparsi, messire Maribaud e Madame Flaminant. Ancora voi? Basta! Il viaggio è finito, siamo usciti dalla metropolitana. E se vi dicessi che quella in cui vi trovate è soltanto un'altra fermata? Forse un tantino più realistica. Il viaggio non è ancora finito. Resta un'ultima fermata. Che fermata? La fermata del futuro, ragazzi. Volete scendere da un'occhiata? Non so che vuoi fare tu. Ma io preferisco non scendere. Tu però vai, scendi. Sicuramente il tuo futuro sarà bello. E che faccio? Ti lascio qua? No, io resto con te. Fermi, ragazzi! Non scendiamo, Maribaud. E c'è chi giura che in quel momento Marina abbia detto... Il nostro futuro lo scriveremo noi. Sous-titrage Société Radio-Canada